Ma allora continuiamo con la guida tv? Il 45% dei lettori non vuole Ci sono governi che governano con meno del 55% Ah beh sì, e poi in effetti all'editoria mi ha importato veramente cosa vogliono i lettori Su Rai 1, il bene e il male Girata nella mia Torino e mandata al massacro contro i reality show Su Rai 2, X Factor Ovvero alcuni ragazzi pop cercano di trasformare il loro fattore chi nel fattore C O no scusate nel fattore X Su canale 5 entra Jerry al Grande Fratello 9 dopo una settimana Ancora non ho capito perché abbia deciso di entrare nella casa Forse perché non ha mai visto il programma Oh, magari le tette della del basso faranno il miracolo Su Italia 1, Red Eye di Wes Craven Su Rai 3, il comandante Florent Ma voi l'avete mai visto? Su La 7 Su La 7 questa sera non c'è niente Guardate alto Liga WSM TV per esempio Che la musica è bella rassicurante Oppure fuori Born to Escape Su All Music Ma non guardate La 7 Su Rai 3, chi l'ha visto? Ma non guardate la musica è bella Ma non guardate la musica è bella